Una vicinanza concreta, non fatta solo di belle parole e buoni propositi. Una vicinanza che diventa progetto. E questo è il senso delle parole del parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce, Don Giosuel Lombardo. Ieri pomeriggio in centinaia hanno grimito la Chiesa per l'ultimo saluto a Ciro, lo studente sedicenne che frequentava l'Istituto Pantaleo di Torre del Greco, morto la settimana scorsa. Un dolore condiviso, insieme alla famiglia c'erano gli amici, compagni di scuola e le istituzioni, palloncini e fiori bianchi all'uscita del feretro dalla Chiesa. Vicinanza, compassione e tenerezza, toccanti le parole del parroco con un messaggio rivolto sia ai giovani che alle tre agenzie educative, famiglia, scuola e chiesa, chiamate a fare la propria parte. Il primo verbo è vicinanza. Gesù guardando quel dolore si fece vicino. Come sarebbe importante nella nostra vita coniugare la vicinanza, la vicinanza a ogni dolore e quindi pensando adesso alla morte di Ciro, all'accompagnamento del mondo giovanile da parte del mondo degli adulti. Una vicinanza concreta, non di occasione, non fatta di parole, non fatta di buoni propositi, una vicinanza che diventa progetto, innanzitutto nelle tre grandi istituzioni educative, la famiglia, la scuola e la Chiesa. E penso che tutte e tre queste agenzie educative invece abbiano grandi difficoltà proprio a coniugare la vicinanza ai nostri giovani. Il secondo verbo ebbe compassione. Gesù ebbe compassione. Quante volte nel Vangelo viene fuori questa compassione di Gesù? Oggi, sì, dando l'ultimo saluto a Ciro, pieno di speranza cristiana, la compassione nello stare accanto ai suoi cari. Ma penso anche alla compassione come stile di vita. L'ultimo aspetto che emerge dalle parole di Gesù rivolte alla mamma del ragazzo è tenerezza. E la tenerezza ci rende umani, ci rende concreti, ci rende solidali, ma soprattutto ci permette di esprimere l'umano in una società che ha dimenticato proprio questa realtà dei valori più profondi, più veri.